Come ogni anno a Paesana siamo di Roma presenti con lo stand dell'umanità in banana, associazione Omnus, da più di 10 anni, fondata a Milano, qui con noi oggi grandi personalità dell'associazione che lavorano con noi, sono segretari di Sogni Ideali, una grandissima soggia, un'associazione e sono segretari delle loro fasce e delle loro buon parole, non da parte dell'ansio, dell'uncio che sono venuti comunque più grandi comuni, ma sono venuti da parte di Sida e di Monti, ricordiamo che Sida e di Monti non hanno avuto tanta importanza, sono capitati in una sfida con le DG e la Sia si, per essere anche riconosciuti per quanto riguarda Milano, per l'estattivo di Sida e di Monti non hanno avuto tanta importanza, per fare politica, polemica, ma noi ovviamente siamo sempre stati molto maturi perché è molto bisogno.